Che complessivamente è tra le migliori del mondo, dopo gli americani e dopo gli inglesi, credo che nonostante tutto quello che se ne dice l'informazione televisione in Italia sia la migliore. Ci sono parecchie cose che potrebbero essere corrette, la politica interna dovrebbe essere fatta meglio e anche sul resto insomma si può migliorare. Ma molto bene perché io sono stato sempre un sostenitore della necessità di una concorrenza telegiornale della RAI nel senso che la concorrenza può e dovrà migliorare un prodotto complessivo. Quando uno è pungolato dalla concorrenza in genere fa una cosa migliore di quella che fa, senza. Se Canale 5 farà un buon telegiornale come io credo e come spero nell'interesse generale anche noi saremo motivati a farne uno migliore di quello che facciamo. La vera concorrenza dichiarata di Canale 5 è al nostro telegiornale delle 20. Questo ci lusinga e speriamo di essere all'altezza della concorrenza. Grazie.